Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse L'anima mia magnifica al Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lottevano. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore Celebriamo oggi questa solennità dell'assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo. Celebriamo oggi il compimento della vita di Maria, perché in questa glorificazione di Maria, anche se poi ancora ci sarà l'incornazione di Maria Regina del cielo e della terra, un'altra festa, ma quello che già vediamo oggi è già la glorificazione di Maria perché partecipa della risurrezione del Figlio, di Cristo, perché se anche celebriamo una festa mariana, il primato è sempre di Cristo. Del resto l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura. San Paolo ci spiega benissimo perché Maria oggi è assunta in cielo in anima e corpo. Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Cristo è il primo, è la primizia, e noi tutti nella gloria di Dio parteciperemo alla risurrezione nell'ultimo giorno come Maria, con il nostro corpo e la nostra anima. Maria però è già assunta in cielo, in corpo e anima, partecipa già di questo, di quello che per noi è promesso alla fine dei tempi. Maria partecipa già. E il Vangelo che abbiamo letto però è un Vangelo non della fine del compimento, non è il Vangelo prima dell'assunzione, ma il Vangelo tra virgolette dell'inizio, dopo l'annuncio dell'angelo a Maria, si mette in cammino verso la montagna per andare a vedere il segno che gli ha detto Elisabetta, tua cugina, nonostante sia sterile, partorirà un figlio e va e lo trova, così come gli ha detto l'angelo. E il bambino sussulta. Ma c'è una frase che è importante in questo Vangelo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E' questo beata colei che ha creduto che è il compimento nella festa di oggi dell'assunzione. perché siccome all'inizio Maria ha creduto e ha detto sì e il Verbo si è fatto carne dentro di lei, ma non solo per la sua maternità, ma perché tutta la vita ha continuato a credere. Quindi il compimento della beatitudine di oggi è perché sempre ha continuato a credere. L'italiano non ce lo rende di per sé, ma il greco ci sono dei verbi che sono tempi finiti e dei verbi in cui la stessa parola indica un inizio che continua nel tempo. E quindi questo creduto è come se ci dicesse che Maria non ha semplicemente creduto all'inizio ok, mi fido, avverrà, ma è che la sua discepola, il suo essere discepolo ha continuato a credere. E diventa per noi guardare Maria come la spiegazione di questo creduto. Perché tutta la vita di Maria è fatta anche di situazioni non lineari. Già l'annuncio, questo essere di chiedergli di fidarsi, nonostante le difficoltà. Ma pensate poi tutto quello anche con il rapporto col suo figlio. La presentazione al tempo, al tempio, quando preservava le sue cose nel cuore, perché vedeva il figlio qualcosa di straordinario, ma non è che tutto sapeva già. Perché comunque lei, pur essendo immacolata, è creatura, è figlia di Dio come noi tutti. Cioè è colui che comunque è discepola e diventa per noi maestra, perché è modello soprattutto, perché lei per prima ha creduto. Pensate anche la fuga in Egitto, eppure ha continuato a credere, è continuata a rimanere ferma. Ma poi l'apice del suo credere è sotto la croce, perché una mamma che perde il figlio, giovane, ingiustamente, non può che essere un grande dolore, una grande disperazione, e forse anche una grande arrabbiatura. Pensiamo solo alle vicende di questi giorni, in cui ascoltiamo anche tanti memoriali di tante situazioni. Quanto dolore, quanto è difficile sopportare il dolore. Allora per questo è beata, perché ha creduto dentro anche quella situazione lì. Ha creduto che Dio mantiene quello che promette, che Dio rimane affidabile, che Dio rimane quella pietra a cui appoggiarsi sempre, in tutte le situazioni. Per quello è beata, ed è per quello che oggi è assunta in cielo, perché Dio ha mantenuto la sua promessa. Le ha donato l'Immacolata Concezione, perché è dono, non ha nessun merito, ed entra quel dono lei ha continuato a credere al progetto di Dio. Allora capite che però questo credere non è un venerare Dio, ed è questa l'importanza e ci riporta al principio, all'incarnazione. Perché il Vangelo di ieri diceva questa cosa qua. Tutti le dicono beata la mamma che ti ha portato in grembo, come se fosse un onore. E Gesù risponde beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Allora è questo il credere di Maria. Aver continuato ad ascoltare la parola di Dio, cioè a ricercare la volontà di Dio, ricercare la presenza di Dio, ricercare tutta la sapienza di Dio dentro alla vita reale, concreta, di quei momenti lì che abbiamo ripercorso, in cui forse il nostro atteggiamento avrebbe detto da noi che cosa era giusto fare o come ci bisognava comportarsi o spiegare le cose. Quante volte noi spieghiamo le cose, decidiamo già di come devono essere, invece di ascoltare, lasciarsi istruire dalle cose che accadono, lasciarsi interrogare dalla vita e invece tante volte noi decidiamo già che cos'è la vita, decidiamo già quella situazione come deve essere, diamo già il nostro giudizio su come le cose sono e così noi non cambiamo mai, non ci mettiamo mai in cammino. Allora questo è il credere di Maria prima di tutto, ascoltare e osservare la parola di Dio, cioè farla diventare carne, così come ha ascoltato l'annuncio e ha accolto la parola ed è diventata carne, figlio dentro di lei, così tutta la vita ha continuato stando vicino al figlio e guardando la vita del figlio, come se fosse il Vangelo vivente per noi. Noi abbiamo un libro che è parola, lei aveva il figlio, ma gli stessi racconti lei li aveva da vicino e lei guardando la realtà del vissuto del figlio diventava domanda per lei, partendo sempre da quel principio di fede in cui l'Angelo le ha detto l'Altissimo eccetera eccetera e allora ha continuato a lasciarsi interrogare sulla realtà e su tutto quello che stava accadendo e lasciandosi trasformare da quello che accadeva e trovare la forza per sostenere tutte le vicende. Allora anche per noi il nostro credere deve essere questo, il continuare ad ascoltare, a ricercare la parola di Dio, la volontà, la sapienza, lasciarsi interrogare dalle cose che accadono e lasciarsi istruire dal Vangelo dove ti spiega il Vangelo la realtà. Non sei tu che decidi della realtà e lasciarsi, e lasciare osservare, cioè lasciare che quella parola venga accolta dentro di noi e diventi carne, cioè diventiamo noi la parola, perché la nostra carne diventa la parola, cioè la nostra vita diventa il Vangelo vivente, i discepoli di Gesù, coloro che accolgono, colgono tutta la sapienza di Dio e la fanno propria. Questa è la differenza tra venerare Dio e accogliere Dio, perché noi rischiamo spesso di venerare Dio come un idolo, andiamo di fronte, facciamo gesti, azioni, dove rimane tutto esternamente, ma Dio non è il Dio da venerare, ma è il Dio da accogliere, perché l'accoglienza fa sì che diventi il Dio per quello che è, il Dio della comunione, comunione, cioè diventare una carne sola. Non mangiamo forse l'eocarestia e non diciamo che diventiamo un corpo solo? Allora questo sacramento deve far sì che alimenti noi tutto quello ascoltato e osservato, perché diventi accoglienza dentro di noi di Dio, perché noi dobbiamo cambiare, non dobbiamo fare qualcosa a Dio per Lui, non ne ha bisogno, lo dico sempre un sacco di volte, ma siamo noi che dobbiamo lasciarci cambiare, allora questa sarà la differenza tra venerare Dio e accogliere Dio, perché tutti parteciperemo così in comunione della Ressurrezione, come Maria ora è il compimento e la piena comunione col Figlio nella Trinità, così anche per noi alla fine dei tempi sarà questa pienezza di comunione in corpo e in anima in un unico corpo, che è la Chiesa.